Beh ragazzi bentornati in questo nuovo video, oggi continuiamo le 1v1 ma siamo qui con Ciao sono io le 1.34 Oggi abbiamo scelto lui Questa prima collaborazione Sì la prima Bene Comunque è stato anche votato nello scorso sondaggio, l'avevo fatto, era tipo il più votato quindi Abbiamo fatto lui Ormai la conoscete la sfida? Se vi siete perso lo scorso andatelo a vedere Allora iniziamo con Showdown Vuoi scegliere tu la mappa? In 3 facciamo In 3? No, solo in 3, no aspetta Vuoi farla in 3? Allora sarebbe meglio sopravvivenza singolo dato che l'abbiamo fatta tutti in singolo Però come vuoi Facciamo Metto Viene dalla fame Cioè Ok Ok va bene Allora le diamo tutti Ragazzi poi vi metterò il link in descrizione del suo canale se volete andatelo a seguire Anche lui vi porta dei contenuti molto carini di Beru Stars Eh ragazzi è andatelo a seguire quindi Poi io ho appena sbloccato Chester Ah DG Chester è molto forte Eh sì sì Ok vediamo un ottimo Bisogna ascoltare il bro Allora Eh Non so Dopo La nata preferita Dopo quale 3 V3 vuoi scegliere? Ah boh Magari K Ok va bene Ok Poi ragazzi ditemi i prossimi da scegliere I prossimi da partecipare per questa serie Ah beh Che si è messo Chester Eh sì voglio un po' Provarlo Cioè in realtà Volevo mettere Bull Così andavo Però dai Anche Chester fa molti danni quindi La map è buono Mappe buono Ma non vuoi morire ok ok Si rende un po' male, però. E vabbè, mi sta un po' laggando. Poi c'è qualcuno che sta guardando. E vabbè. No, no. Per poco. Sì, vabbè, cucinato. Vabbè. Ok, allora andiamo nella 3v3. Se la dovresti vincere te, è finita. E hai vinto te. Quindi mi cercherò di impegnare. Il primo round lo vincono sempre gli altri, stasera. C'è anche la caccia di meduse. Oh, no. Non la conosco bene. Facciamola che conosciamo già. Quindi caccia di meduse. Ok. Metto, scelgo io oppure scelgo tu? Ma scelgo tu, stai oltre. Ok. Allora. Ando con questa. Ok. Ma qua qui. Ma cosa stava volendo? Insomma. Beh, non dico il problema che metto. Sennò lo metto. Poi ragazzi troverete anche nel suo canale una collaborazione di un altro video. Sì, farò anche io una collaborazione poi. Uscirà, vabbè, uscirà il mio video prima. Però adesso uscirà prima, probabilmente. Eh sì, perché io questo video lo pubblicherò verso settembre, più o meno. Io lo pubblico sempre il giorno dopo. Comunque, massimo due giorni dopo, però. Eh, io no, perché ho tanti video ancora da mettere, quindi. Ok, io ho fatto. Ho messo questo brawler, che è uno di brawler che si usare abbastanza bene. Quindi, andiamo. Spero non ne hai messo Edgar, perché se no è la fine per me. No, non ne ho messo. Ok, ok, dai, si può fare. Mi ha perso unito a me. No, ma perché mi arrivano le notifiche? Che fortura. Madonna. Ah, se mi no, aiuto. Eh sì, è molto fastidioso. È una buona idea. Eh sì, io di solito qui uso sempre lanciatori. Cioè, mi sembra la mappa giusta per i lanciatori, quindi. Ok. Sono anche di me che mi ha messo, però poi no. Perché magari... Non so che per cui non è per me. Solo che devo stare attentissimo. Pure io, perché... Ho anche sbagliato il gadget, però vabbè. Ma c'è sempre una persona che guarda. No, non ne ho messi quattro. Ah, non è da fastidio, però fastidio. Ora... Ma comunque non l'ho tenuto, perché... No, che schifo. Tre colpi missati. Ah no, ce l'ha finito. Ah, io sono morto. No, qui ho fatto davvero schifo. Oddio. Eh, mi sa che vinci. Dai. È che non uso neanche il gadget. Ho messato tutti i colpi. Eh, mi sono fregato da sola. Ora è la super. E niente, è finita. Ci pervediamo. È finita. Eh, raga, niente. Ho vinto io. Ok, allora, questa volta neanche un punto ho fatto. E abbiamo vinto Leone. Va bene, mi sa che avrò sbagliato a metterse Mino. Vabbè. Allora, bella ragazzi. Ci vediamo in un prossimo video. Ditemi il prossimo che volete per questa serie. Il video è durato abbastanza poco. Infatti ho otto minuti. L'altro è durato molto di più. Vabbè, ci vediamo in un prossimo video. Ciao.